Un progetto da 200.000 euro, unico su scala nazionale, che punta a individuare i principali fattori di rischio delle malattie cardiovascolari a forte demarmi e programmare alla fine dei 30 mesi di monitoraggio politiche sanitarie adeguate. È l'obiettivo di Un Cuore Forte l'iniziativa dedicata alla salute dei residenti. Per 30 mesi, 400 volontari di età compresa tra i 45 e i 69 anni potranno sottoporsi a visite e screening cardiologici gratuiti. In un momento in cui la sanità arretra, l'universalità delle cure comincia a soffrire da qualche lustro a questa parte, un'amministrazione comunale che si fa promotrice, finanzia e si fa partner nostro per condurre un lavoro di conoscenza dei bisogni sanitari dei cittadini in modo da avere degli strumenti per poter programmare gli interventi futuri anche in collaborazione con la conferenza dei sindaci e con l'ASNO Nord-Ovest non è cosa frequente. Vorrei però mettere l'accento sul fatto che questa ricerca al sistema sanitario non costa niente perché è tutta finanziata in gran parte dal Comune di Forte dei Marmi e in molta parte da privati. L'adesione è come detto su base volontaria. Per partecipare i residenti del Comune di Forte dei Marmi dovranno semplicemente rivolgersi al proprio medico di famiglia. Il progetto è realizzato in collaborazione con Ars Medica, Casa di Cura San Camillo Hospital, società mutuo soccorso di Forte dei Marmi.